Ciao ragazzi, oggi vediamo questo sissi squat fondamentale per allenare i quadricipiti in questo periodo di quarantena. Partiamo da come bisogna eseguire il movimento. Innanzitutto ci si mantiene ad un supporto per eseguire il movimento in sicurezza e a questo punto il movimento richiede tre fasi. In una prima fase si esegue con il bacino sempre in avanti, sempre retroverso, un movimento solamente sulle ginocchia, scivolando in avanti e poi tornando quasi in posizione retta. Il secondo movimento invece va a lavorare un capo del quadricipite, l'unico biarticolare che agisce sul bacino, che quindi prevede una flesso-estensione di anca. Il terzo movimento è un movimento completo, in cui si esegue prima il movimento sul ginocchio, poi il movimento sul bacino e poi si torna in stazione quasi eretta. Cerchiamo infatti in alto di invertire subito il movimento per non perdere tensione. È un movimento utile a lavorare il quadricipite senza un sovraccarico esterno, infatti già eseguendolo a corpo libero si ha molta congestione a livello del muscolo target, soprattutto se in alto non si perde tensione. Non eseguitelo se nello scorso anno avete avuto problemi al crociato anteriore o comunque degli interventi a quest'ultimo, poiché soprattutto nel movimento sulle ginocchia, nel primo movimento, si creano delle tensioni importanti sul ginocchio, poiché la tibia tende a traslare in avanti e a questo movimento si oppone proprio il crociato anteriore. Nel caso in cui vogliate sovraccaricare l'esercizio, cosa che vi sconsiglio al massimo lavorate in tensione continua, ed evitate di perdere tensione al termine della concentrica, quindi nella parte alta del movimento, comunque nel caso in cui vogliate sovraccaricarlo, basta mettere un disco, un paio di manubri o un bilanciera all'altezza delle spalle, come se fosse un front squat. Su Instagram già avevo parlato un po' di tempo fa di sissi squat e facevo riferimento alla variante più semplice dell'esercizio, quella dove si va a lavorare solamente sull'articolazione del ginocchio, a bacino sempre retroverso. Vi lascio il video qui in alto, dove vi segnalo anche l'errore, cioè quello di andare ad antivertere il bacino, a portare il bacino indietro, durante il movimento, riducendo lavoro a carico dei tre capi monoarticolari del quadricipita. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, e se vi va, seguitemi su Instagram. Alla prossima!